Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Andrea Slayer Oggi ragazzi siamo qua su Fortnite, da come vedete Allora, tutto funzionante, perfetto Ragazzi, ho provato anche a rinstallare OBS e disinstallarlo Perché le live ho visto che subito non laggavano per niente Poi dopo la live di oggi ha laggato tanto Quindi ho provato a rinstallare OBS, vediamo ragazzi Vediamo Speriamo vada meglio Allora questo qua Prendo questo Allora Ok ci sono, scusate raga Allora io questa casa direi di aver preso tutto, non manca niente Oppure no, ho sbagliato Ah no c'è qualcosa nel tetto, è vero Nel tetto raga Ah, ho fatto bene ad andare nel tetto raga, guardate cosa c'era Perfetto raga il caccia Il caccia secondo me è l'unica cosa buona che ha fatto Fortnite, mi piace troppo Cioè il caccia raga Mi piace troppo, lo usavo sempre, per fortuna l'hanno rimesso, a me piace un sacco Poi ognuno ha i propri gusti Ma a me il caccia raga è quasi la mia arma preferita, mi piace troppo Perché spara veloce, carica veloce Anche se fa un po' di meno danno del cecchino però Cioè va a fa niente dai Poi ditemi voi intanto ragazzi nei commenti Sono curioso di sapere se voi preferite il cecchino Oppure il fucile da caccia Fatemelo sapere con una vostra risposta sotto qua nei commenti Ah intanto ragazzi vi invito a lasciare un bel like Che non fa male a nessuno Immaginate se tutte le persone che guardano questo video mettono like ragazzi Vi immaginate cosa succederebbe? Beh se volete provarci provateci ragazzi Io non vi obbligo a mettere like però Se volete mettetelo Voglio fare un edit senza quasi muoverla visuale Così tipo Ecco Sembra che non ho fatto io l'edit E vabbè Vediamoci sta legna che ci serve Comunque ragazzi secondo me inizio anche io a fare arena Vedo che tanti la fanno Perché io ragazzi non faccio mai arena Faccio singolo oppure creativa Arena non la faccio mai Non so perché non la faccio Non so neanche io perché non la faccio La potrei fare tranquillamente Vabbè D'ora in poi ragazzi nei prossimi video farò delle arene No Ho sbagliato Sto pompa che Fornit lo tolga per favore Che Fornit tolga sto pompa Subito ragazzi Subito Lo tolga subito C'è chi A chi piace ragazzi c'è Però C'è chi piace ma a me no Mi fa schifo Con tutta la verità Grazie per la missione C'è qualcuno ragazzi adesso vado a ucciderlo Forse Lo uccido Vediamo se È forte oppure no Oppure se è bot oppure no Vediamo Non sembrava bot Cioè non sembrava un giocatore vero Perché Non mi ha beccato manco una volta Vabbè In ogni caso C'è una cassa qua sotto Andiamocela a prendere Perfetto Eh no Non c'è niente di interessante Mi tengo i shieldini Perfetto Ok Gigi Certo Mi faccio fare degli edit a caso Mi piace È bello C'è qualche sparo di là Se non sbaglio Sì Ci sono anche due persone Vediamo raga Se sono forti Speriamo Non troppo forti Va bene Ok Va bene Vabbè Per me Possiamo anche incontrare gente scarse Non è un problema C'è raga Non si è accorto Che ieri lo stavo venendo da lui Sarà bot Allora Perché non atterri eh Perché non atterri eh Atterra dai Mi dispiace Mi dispiace jumpy ma non posso entrare nel tuo party Nella tua lobby Se stai guardando questo video Mi dispiace ma non posso C'è qualcuno che ha lanciato Un lanciarazzi a caso Ok Ah eccolo È lì raga Ce n'era anche uno là però eh Vabbè Vado a uccidere questo nel frattempo No raga fa un'alleanza No dai Bastardi Fidi Che bastardi raga L'altro non so dove è andato Via Raga devo andarmene Subito No raga se mi becca Sono morto una volta Spero non ha laggato in questo momento in cui stavo fightando Spero di no No i bot no No raga i bot no per favore Non venite qua Non venite qua per favore No raga i bot mi stanno su Mi hanno fatto vedermi No raga uffa Perché Perché devono rompere i bot raga Raga li uccido perché mi stanno su Non lo becco eh Non lo becco Secondo me devo aspettare un po' Prima di sparare Non devo sparare subito così a caso Oh raga quanta mira di merda che ho Alleluia Certo che faccio schifo eh col caccio Mi piace come arma Però faccio schifo Vabbè raga Sono morto Non me ne ero accorto della save Sono scemo Sono scemo Sono scemo Sono scemo E vabbè raga Vabbè Sono stato un po' scemo io Vabbè ragazzi Io finisco il video qua Spero vi sia piaciuto il video Ragazzi E niente Noi ragazzi ci ripetiamo come sempre Ad un prossimo video E Lasciate un like Iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto Attivate la campanella Per non perdervi i miei video E noi ci ripetiamo ad un prossimo video Ciao ragazzi Ciao